Mi senti Beppe? Sì, adesso sì Beh, ci mancava l'errore, no? Niente, io solo ti ho messo pausa, devo attraversare... Perfetto, allora torniamo a noi Tappa sta bocca, deficiente Devo dobbiamo far qualcosa con questo qua enorme Ha rotto i coglioni E' lì sotto che spacca il cazzo Eh, esatto Troviamo un fucile protonico alla Ghostbusters Diamogli fuoco, ma... No! Shit! Dico io Ma sono pazzo E' qua, eh No! E mi ha visto, raga Giochiamo a travestirci, raga Questo comunque è chiaramente... Stai calmo Ti allargerò come si deve Raga Ti allarga il buco del culo E qui ti indosserò Esatto Povero cane Aspetta, aspetta cane Allora, se no Perché sto immaginando cosa ha fatto il cane Perché non lo vedo più? C'è una roba lì da Schiacciare Beh, fermo lì Sì, fermo lì Usa le tonchesi sulla corda Da parte di un tira Bravo, vai lì come un coglione La mia via d'uscita E poi Jack mi saluta, è bestiale Ti ha fatto del male Ti ha fatto del male Poi io l'ho mandato qua Vabbè A parte che io non ho mandato nessuno Da nessuna parte Non si ha mai rotto il cazzo Dede Dede Dio madonna E' stato che non bestemmia la mano Senti, mi avete rotto il cazzo Io corro qua Prima che mi fa crollare qualche cosa Bastardo Ha tutti i coglioni questo qua comunque E' chiaramente Allora, qua cosa ho trovato? Cacciavite Almeno questo può arrivare in handy Leva Ah no Grande Ah sì Paura dei fulmini, raga Attenzione Sto stisciando nel muro Perché tanto qua Sono forse un po' più indietro di te Energy is energy Perché mi son fermato Quando li parlava Per capire bene che cazzo diceva Raga Energy is energy Eh che bordello Fai più casino Ci fa Tanto E aprigli anche la porta Mentre ci siamo Ah è impaurito dal Dal fulmine E di quello che fa Oh Ti ho detto Fucile protonico Capito Qua ci vuole Il cosiddetto Sbato Ah raga Mi stiamo pisciando Adesso che abbiamo capito Come fare Ah sì Sono qui Ma Chiudi quella cazzo di bocca Coglione Vabbè Nel senso Buon che vada di sbalassarmi di quella cosa È calda come un boiler Boh Io l'avrei Vabbè Ti Vai avanti Ma come cazzo La grido allegro Ma Io non ci giurerei Poi faccio a lei Nel senso Boh Boh Se abbiamo fritto Capito Cioè a me Io l'avrei gestita un attimo In maniera diversa Tipo Ma per me non è morto Ma sì Mi sembra una roba Ero lì che lo spingevo Non avevo nemmeno capito Lo stavamo spingendo in acqua Il generatore Sì anche perché Partito un video No per me non è morto Partito un video No Un caricamento Ma cos'è sto caricamento Ma che merda è Ma che è appena successo Vabbè Da un'area all'altra Così L'ho detto Chiaramente L'hanno fatto il PS5 Solo per la pioggia Su joystick Perché poi per il resto Solo per il DualSense Perché poi il resto È un gioco Che livello prestazionale Boh Caricamento Sì Sì è arrivato lì Adesso caricamento Ah siamo usciti dal Fort Sì ma con quale Con quale transizione Si fa Ma si fa Con il caricamento Alla Metal Gear Ma si fanno le cose così Ma sai cosa mi gira il cazzo Che Observer è fatto meglio Cioè È un altro gioco È vero che è un gioco diverso È tutto al chiuso Quello che volete Però non ha sti problemi Oh 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 Stai scelando Ah boh La bambina Stai bene Mia sorella Ciao Eh Bestemmia Trovate un casino di bestemmia Sì Ma Eh Devi secondare Cazzi dici no Ah sì si chiamava Richard Comunque Sì sì Marianne Sicura anche tu Poi Eh E quindi Mamma Sì a me serve tuo padre Di porco Non mamma Ecco Siamo triste Lascia perdere Sei sicura di quello che dici Esatto It was Really lonely Lonely Without them Eh I know What that's like Ever since My friends This Is Lonely Plecy Attenzione raga la maschera non dovrei essere qui potremmo potremmo essere meglio da un'altra parte potremmo potrei riuscire non 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 ma perché non sei non sei del monstero eh però sta bambina di merda mi ha rotto i coglioni ma ma non bisogna più più vuole e quando ti rompe quando ti ti si finalmente potrà lasciare questo oggi quando ti fa la pezza e quando ti indosserà no it it will never be full it will never stop killing then let me send you away so we can both leave now that you remember who you are I can help No Marianne, non è solo per me, è tu, devi ricordare, il sogno, il fuoco, l'uomo rosso. Devi ricordare... Ma lo sappiamo che non siamo noi quelli da ricordare. Ma siiii, raga, nel senso, lo dicevo. Tu eri lì, Marianne. Con me. Tu eri sempre con me. Scusate. Lili. Lili. Vabbè. Oh, d***a. E' scinta. Dai, valla. Vabbè, la casa rossa penso che sia questa che c'è qua di fianco perché... E' quella, penso sia quella bruciata, la casa rossa. Io volevo vedere se qua c'era qualche... Qua c'è qualcosa. Dove? Sulla parte superiore, davanti alla casa c'è una ruota. Ah, davanti alla casa, comunque. Non è. Sì, c'è un eco. Se tu schiacci l'1 ti appare... L'eco. Sì, perché io sono tornato indietro. Sulla parte superiore c'è una ruota. Vadala lì. Sì, c'è un po' di fiacciando l'1. Facciamo una chiacchierata. Hey, hey. They really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard too. Didn't realize he was no longer there. There. The spark is too weak to absorb. It's like missing something. No. C'è un altro eco, un cavallo. Ma sei dentro la casa. Sì, adesso sì, ma sono appena entrato. Ehhh. 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 Eh... Vabbè... ok... ma questo chi cazzo era poi tra l'altro? Mi capisco... Thomas Thomas Thomas, Gesù Cristo Allora... Questo era il tuo posto? Che cosa succede qui? Eh... praticamente la... la tua moto smontata Vabbè... Perché non mi fa... sto sbagliando il tasto C'è un po' di trasmettura 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 È un po' di trasmettura E credo che Rekovec è stai spiegando qualcosa Percezzi inizialmente Perciò si è avvicinato Quindi loro conoscono di Thomas Ma quanto tanto? E chi è? Esatto L'SBI Eh... Però... Oh hey Una yunach Una yunach Pazzesco che fa la yunach Esatto, una moto Ma tu sei andata al secondo piano della casa? Non ancora Ho preso la bambola Qua Qua Non ho preso la bambola perché non è certo dovevo andare per forza sopra Eh... Io sto scendo giù di nuovo Quella migliore E poi ti so Faccio un giro nella tolla Ma treco Cos'è? Cos'è mi... Guarda qua Tu vuoi parlare? Questa è la tua idea No Sono già con noi Ehm... Ehm... Facciamo così Ehm... 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 Una roba del genere Forse in fondo si aveva detto che non andava Ma questo Qualsiasi cosa lui ti abbia fatto Qualsiasi cosa ti abbiamo fatto noi Hai ottenuto quel che ti meritai Ok Oh 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 No no Ma fammi uscire Qua? Qua c'è di roba Qua c'è di roba E se non fa attenzione Porca... Troia Allora va bene Come si va al secondo piano No anzi Prima esco fuori Metto la bambola Piglio la luce E poi vado al secondo piano praticamente No, vabbè C'è una roba sotto al motore se riusciste a sollevarlo Qua Allora come si va al secondo piano? Perché io mica ho capito Ah si? Boh Guarda così Però manca la maniglia Pepe Che come? Come si va al secondo piano? Dalla... Dalla parte di fuori C'è da dove entri Staccate nel cazzo Ehm... Di fianco Tipo Vai dall'entrata Dove sei entrato C'è un piccolo corridoio di fianco alla casa Ti appare un... Un triangolo poi Per stare su Ok Guarda che ho trovato delle sigarette qua Hai seguito la pista Tu ho trovato la bambola Ma io ho trovato la bambola Sono bambola La parentesi così Ah eccola la bambola Sono un coglione Ho trovato adesso la bambola Pensa che cazzo mi piace Questa Ah di qua ci può andare solo qualcosa ma poi muore Ok Vabbè Ehm... Facciamo così Quindi? Adesso il potere Ho l'eletticità Aspetta Io qua Ma dove sto andando? Niente mi fa ripartire da dopo Ehm... La casa rossa Da dopo che apri il cancello Sì Immagino Boh ma allora ti fai i due ricordi Sì Ehm... Non so come fare per il discorso della casa che ti ha saltato Eh vabbè Boh raga Ma ha saltato un generatore di merda Non succede niente Ci ha saltato tutto il discorso della casa blu però Eh boh Quello un po' mi dispiace Ehm... 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 E niente Rimarrà un mistero per gli ascoltatori il fatto che l'uscio è aperto Ehm... Ehm... Perchè io fondamentalmente il video non mi è successo un cazzo eh Ma... Dio maledetto E dire che sai una volta dicevamo ah ma tu beh perfettivamente ai Geek Tiger magari le impostazioni della Play sono impostate su... Ehm... Ovviamente non... Non usa tutti i comp... A parte che questo gioco qua Con Super Nintendo funziona a momenti Che fuck is that guy? Comunque... Costiga Saturn Dimmi quando parte il video che faccio riprendi Allora Qua ne hai fatto due Aspetto che se ne vadano le farfalle un attimino Sai poi se non crash di nuovo eh No... No dai Guarda può capire una volta E qua scopriremo che questo video non può essere registrato e mi deve crashare Allora Attenzione Poi te come hai fatto a vedere che era un accendino intanto? Perchè lei ha una... Quando tu raccogli il suo coso per terra A parte del trofeo Aspetta che è partito il video aspetta Ok esatto Forse non sta crashando Se lei non guarda il suo accendino a parte della loro raccoglie Sì 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 Vabbè stai calma Ma questo qua non è... È Thomas Esatto Cosa è la valigia di chi? Dell'uomo? Cosa? 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 Certo Cosa abbiamo qui? A parte che le sigarette si abbatte Si abbatte Si abbatte Dovrei conoscerlo per qualche motivo questo nome, me lo dovrei riconoscerlo, eh il mio adesso non mi sta dicendo un cazzo Come fai ad incazzare Tom Cazzo Non lo sai a chi stai messo con un bambino Oh, ma io lo so Ho spavuto molto tempo, non c'è nessuno In fact, sei un progetto di mio Oh, sì? Qual è il mio cazzo di Speedo? Fai ragazzo Oh, mi piace questo Ti piace anche, comrade? Cazzo te Speriamo un gioco Si chiamato Come fai a Thomas Si Quindi I nazi trovano te in Warsaw Cosa? Tre' anni? Oh, si chiamavano te Ma non Non, si chiamavano te Potenziali Non voglio farlo Ma poi 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 Gli Poi Poi Si per il vostro amico Richard. C'è arrivato. Sì. Hai chiesto, hai chiesto di rinforzare. Hai capito. Hai fare qualcosa per i miei bambini. Quali che prendi. Lonti i miei bambini. Chilton. Sì. Quanto dolore potresti per mantenere loro sicuramente? Cosa ciò che abbono per loro? La sua libertà, magari? Let me go, tu u'eserci! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! Mi pensi che non ti chiedi mai. Prendete un po' di resta, Thomas. La prossima volta che ti dimentichi, il dolore reale comincia. Sì, non ti chiedi. Ma ora si vede. Ma ora si vede. Ma ora si vede. Sì, vedi. Non, tu è morto! Vieni! 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 Sono ancora in là, Thomas. Ti mostrami ora! Vieni, Conrad. Qualcuno... si prende. Te la sei cercata. Te la sei cercata. Pezzo di picio.